Ecco le parole di Nicole Incorvaia e Edoardo Tavassi sulla loro storia dopo il grande fratello Ospiti della trasmissione radiofonica Turchesando, i due ex GFini hanno parlato della loro storia d'amore dopo il grande fratello, dell'imminente matrimonio di Clizia Incorvaia, e della loro possibile partecipazione ad un nuovo reality show Sul matrimonio di Clizia, Nicola ha confessato Mia sorella a breve si sposerà, abbiamo celebrato l'addio al nubilato insieme, è stata una giornata da sogno, da principesse Bellissimo, tutto curato nei minimi dettagli Io sono la testimone, l'abito sarà celeste, dettaglio che mia sorella ha scelto per il matrimonio Noi regaleremo le fedi, non so se le porteranno i figli Nina e Gabri, ma sarebbe molto tenero e carino Al matrimonio ci saranno già Ele, Edoardo Donnamaria, Alberto De Pisis, e basta del GF Un matrimonio nel loro futuro? Ecco la risposta Un matrimonio nel mio futuro? Sicuramente io immagino un futuro con Edoardo, ma non immagino un matrimonio o chissà cosa, io non vedo il matrimonio nel mio vicino futuro, più in là si potrà pensare a qualcosa del genere Sulla possibilità di partecipare ad un nuovo reality in coppia i due hanno confessato Io sin da piccola ho sempre avuto chiaro il mio obiettivo, poi mi sono arenata L'unica certezza che ho è che sarò un'imprenditrice. Non mi precludo nulla in tv ma sto cercando di non prendere soltanto una direzione Pechino Express insieme a Edoardo? Io lo farei, fighissimo! E, un'esperienza stupenda, tutti lo vorrebbero fare Grazie!